negli episodi precedenti io ho un paio siamo ugo 79 anni me ne dimostro 75 parla bianca a buca centrale guarda fatto quello del mio 20% io lo so no no che schifo fatto 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 bellissimo guarda albertorio guarda questo letto inutile è tipo quello del signor banz che amati il bottone si distrugge il letto e se ne fa uno nuovo oh mio dio guarda questo l'hanno spellato viva non lo sovrano spell aaaah sta bruciando sta bruciando sta bruciando ho trovato la pelle guarda che poi è una texture la pelle tutto il gioco foto perfetto e poi c'è una texture ma è un bistrello che non ha visto la finestra e si è spiaccicato batman si è spiaccicato oh merda che ce l'ha comunque quelli stavano studiando vedi che ci stavano disegni di anatomia e li stavano spellando pure oddio c'è quello rosso la tettina che ballava c'è c'è lo steppino di fedex ragazzi chi è fedex? come chi è fedex? che c'è fedex? che c'è fedex? che c'è le so ma prestamente ma veramente non mi saprei da me ma tu come le hai detto? no è un rapper fedex quello è fedex casamai fedex mi sembra un dedorante nuovo fedex però anche tu fedex mi ha detto tu sei amico mio non mi chiamare fedex c'è un'altra stanza c'è un'altra stanza e l'abbiamo visto eh lo so e dopo non può sporco grazie chi ciowanie ciao non ti permè No 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 my little ponii chiude 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 My little poniii my little ponii guarda questo come ride sono tronzo sono buono sono buono sono buono sono buono provo come spellalo oh cazzo arrivo oh cazzo di nuovo da di ma mi fanno un sacco di presento giro ma che è? povero ragno in culo le presenti si c'è proprio la caccola velocevolo ci stanno saldando fuori ragni 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 stai saldando è battale sei fuori sei fuori sai aiuta a prima porta premiè oh mi stanno uccidendo ok chiudi 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 apri sta porta apri sta porta apri sta porta sono un sacco apri aiuta aiuta apri sta porta sono un sacco no c'è pure quello grosso vaffanculo io faccio il giro e te li porto aiutare la urina aiuto oh merda oddio il match è quello la aiuto vedete qua sto amarendo cazzo non ce la facciamo stiamo morando aiuto sono morto porca troppo sono morto pure io c'è la wichita alber non c'è bestia no me ne vado me ne vado me ne vado me ne vado cazzo tu sono cazzo tuoi non mi interessa ciao aiutami laurini ti ho tenuto una gamba sei incazzato ma ragazzi è morto è morto comunque io alber stai morendo alberto alber il retreggio vincetto davanti vincetto davanti è morto è lo shampoo di alberto torris fu stato molto famoso guarda il quarto più grande alberto orio alberto orio è il ultimo date nooo è il ultimo è il ultimo è il ultimo è il ultimo io non ho capito dove sono te lo blocco te lo blocco vai dietrima 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 14 13 16 20 30 oddio oh cazzo nella nebbia spuntato da dietro da dietro da dietro da dietro perché butto soldi perché butto soldi come butti soldi si trocca la tua attenzione il raid di granate veloce 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 granate 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 sono morto sto caricando sto caricando ragno di merda è morto aiuta che rani lo taglio tantissimo calmi calmi ragazzi eh 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 io ho un impegno vicio va io pure ciao ciao alba le granate le granate le granate via 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 no! sta stuccando quello sta stuccando quello sto curando la sto cura bravo bravissimo non ce l'ha con me aiutatemi dai fermo fermo è bloccato è bloccato la sto bruciando lo sto bruciando dai che hai messo a me noooo ce l'ha con me oh Dio ma fresco aiuto 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 sono trovati che è che però non 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 sono morendo veleno veleno di sopra zombie che prendono fuoco o mio dio sta vedo per se il video per la torsione e stelle oddio e chiama granata non funziona non funziona funziona no no ma io adesso da bello conosce di più la bomba c'è una bomba grazie grazie vi voglio bene la grande su di me, la grande su di me Nonononono via 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 Ok ok via 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 Scusi vi cuore Grande grande sei un medico quasi decente Costa? Prima da dietro, presso da dietro... Che hai si cazzato? Si cazzato! Non prenderlo aiuto, si cazzati più Oddio, io voglio la mamma Io voglio un amante, una donna tra tante È giusto, che vuoi capire È morto Alberto Ilius curati, curati La granata, la granata, sono inizio alla tua... È morto! Grande Acingiamento alberto lius alberto abbiamo vinto guardiamo le classifiche delle kill vediamo le classifiche, vediamo gli assist non c'è anche arrivato 96 ho più assist eh ma comunque con gli assist manco arriva le nostre kill con tante e noi pure ne abbiamo non teni niente bene per questo video è tutto lasciate il mio piace e scherzo ciao piccio ciao belli